Gesù non ha mai detto di essere Dio. Vi è capitato di sentire questa obiezione da parte dei testimoni di Geova o di chi nega comunque la divinità di Cristo? A me personalmente sì, più di una volta. Ma è veramente così? Gesù non ha mai detto di essere Dio? Lo ha detto. Lo ha detto. Solo che lo ha detto in un modo giusto, nel modo corretto. Voi immaginate se Gesù, nei suoi tre anni e mezzo di ministero qui sulla Terra, dovunque andava, avesse detto apertamente «Io sono Dio, io sono il Verbo incarnato, io sono Yahweh, il Dio di Israele», quanto pensate sarebbe durato? secondo me non sarebbe neanche arrivato sulla croce, al Calvario. Ma questo non vuol dire che Gesù, sulla Terra, non ha mai affermato la sua divinità. Ad esempio, il Vangelo di Giovanni è uno dei Vangeli in cui Gesù Cristo, più di tutti, afferma la sua divinità. Volendo tralasciare il prologo di Giovanni, Giovanni 1.1, la parola era presso Dio, la parola era Dio, e volendo tralasciare le dossologie degli apostoli che considerano Gesù Cristo, Dio incarnato, andiamo a vedere dalle stesse parole di Gesù, perché in questo video vogliamo rispondere all'obiezione «Gesù non ha mai detto di essere Dio». Giovanni, capitolo 8, versetto 44 scusatemi, versetto 58, ma leggiamo dal versetto 56 Gesù parla ai Giudei e dice «Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se ne è rallegrato». Quindi, Abramo ha visto Cristo, ha visto il giorno di Cristo. E come era possibile? Gesù ci risponde «Infatti gli stessi Giudei glielo chiesero «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù, nel versetto 58, disse loro «In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Ora non è tempo di addentrarci nella linguistica greca, in questo versetto, nel greco biblico. Vi basta solamente a questo video trasmettervi una cosa importante, ossia che Gesù non disse «Io sono stato» e non disse neanche «Io c'ero», come traduce la traduzione del Nuovo Mondo. Ma disse proprio «Io sono», perché Giovanni, nel mettere per iscritto queste parole, usa il termine greco «ego eimi», «Io sono», che è un termine che indica una esistenza eterna, dall'eternità e per l'eternità. E in modo particolare significa passato, presente e futuro. Ma non è corretto tradurlo «Io ero», perché è troppo riduttivo. «Io sono» è la traduzione più corretta, perché in questo caso «ego eimi» è un verbo continuativo, ossia Gesù stava dicendo ai giudei «Io esisto, sono esistito, esisto ed esisterò sempre». Ed è per questo che Abramo vide il mio giorno, perché «Io sono». probabilmente anche un'allusione all'Io sono di Esodo, capitolo 3, versetto, i primi versetti, quando Dio appare a Mosè e si presenta come «Io sono colui che sono» o «Io sono colui che è». Come reagiscono i giudei? «Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio». Perché i giudei reagirono in questa maniera? Perché avevano capito e non avevano frainteso, non erano stupidi. Erano in quel caso, si sono dimostrati nemici di Gesù, ma tutt'altro che stupidi. Conoscevano le scritture, conoscevano la legge di Dio, conoscevano la tradizione tramandatagli dai loro padri e quindi non hanno frainteso le parole di Gesù e non hanno reagito in quel modo, volendolo lapidare, solo perché Gesù aveva detto di essere nato prima di Abramo. Non era questo il problema. Con quell'Io sono, Gesù aveva dichiarato apertamente la sua divinità, la sua uguaglianza con Yahweh, il Dio di Israele. Ed è per questo che gli ebrei, i giudei, che ascoltarono queste parole, reagirono in maniera così forte, tanto da addirittura raccogliere delle pietre per tirargliele addosso, quindi lapidazione. In quel tempo, nell'antico Israele, si veniva lapidati per bestemmia. Quindi ci doveva essere una causa forte per la lapidazione, secondo la legge. Non è che si prendevano delle pietre e si tiravano addosso a qualcuno così, sulla base del nulla o per un qualunque stupido motivo. Quindi i giudei avevano capito veramente molto bene quello che Gesù voleva intendere. Quell'io sono, stava a dichiarare, con quell'io sono, con quell'ego eimi in greco, come lo riporta l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo, stava a significare la sua piena divinità, si stava dichiarando Dio. Ma non è solamente questa l'occasione in cui Gesù dichiara la sua divinità e la sua uguaglianza con il Padre. Se noi andiamo nel Vangelo di Giovanni sempre, questa volta al capitolo 10, Gesù, versetto 27, 28, diciamo quello che a noi interessa in modo particolare è il versetto 30. Gesù dice, io e il Padre siamo uno. Come reagiscono i giudei nuovamente? Versetto 31, i giudei presero di nuovo delle pietre, pietre, scusate, per lapidarlo. Ancora una volta, reagiscono allo stesso modo di qualche tempo prima. Gesù gli disse, vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. E quindi, è chiaro, no? Anche qui, i giudei non fraintesero, anche qui non erano stupidi, conoscevano le scritture, conoscevano la legge, conoscevano la parola di Dio, che Dio aveva tramandato loro tramite Mosè. E non c'era stato fraintendimento in quelle parole. Esattamente come è accaduto qualche tempo prima con io sono, con quell'io sono, anche in questo caso, i giudei reagiscono in malo modo, volendo lapidare Gesù, perché si era fatto Dio. E nei versetti successivi, se poi ve li leggete, Gesù non li corregge, non gli dice guardate che sono stato frainteso, guardate che avete capito male, io non mi sto uguagliando a Dio. No, anzi, a buon bisogno rincara la dose citando anche e parafrasando una scrittura dell'Antico Testamento. Quindi, Gesù non ha mai detto di essere Dio, siamo sicuri, ma ci sono altre occasioni in cui Cristo Gesù ha dichiarato di essere Dio e ha dichiarato apertamente la sua divinità. Lo vedremo, se Dio vuole, in un prossimo video. Sempre della rubrica rispondiamo alle obiezioni. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.